Come mai anche dei testi mediocri quando si trasformano in audiolibri talvolta diventano dei libri bellissimi e piacevolissimi da ascoltare? Ciao a tutti da Livio Gambarini di Rotte Narrative. Oggi voglio darvi qualche riflessione, qualche spunto a proposito di questo tema. Un tema che mi rendo conto dopo aver fatto una approfondita ricerca in questo campo non è ancora stato toccato, cioè toccato magari sfiorato di sfuggita sì, ma approfondito assolutamente da nessuno e a quanto io abbia visto non solo in ambito italiano ma proprio in ambito mondiale. E cioè le differenze stilistiche che passano tra una scrittura ottimizzata per la vista e una scrittura ottimizzata per la voce, per il racconto parlato, per l'audiolibro, per il podcast eccetera eccetera. Ebbene sì, ci sono delle caratteristiche stilistiche che designano un testo scritto come subottimale, subottimizzato, anche amatoriale certe volte e che viceversa invece funzionano molto bene nell'audio. E questa è una cosa che sta alla base e spiega il perché di tante stranezze che mi avete segnalato a proposito del tema audiolibri, un tema che in questo periodo andremo proprio ad affrontare, a sviscerare intensivamente. Allora, giusto un paio di cose al volo per permettervi di fissare qualche coordinata a questo proposito. Il discorso, il concetto è che l'esperienza di lettura a mente è una lettura di tipo endofasica. Cosa significa endofasica? Contrapposto naturalmente alla lettura che viene fatta a voce alta che è una lettura di tipo esofasica. Cosa significano? Endo e eso significano interno e all'esterno. Una lettura con una voce interiore, quella fatta a mente attraverso la vista, quando leggete il vostro libro o il vostro ebook, una lettura invece fatta da una voce esterna a voi che voi ascoltate con le orecchie nel caso degli audiolibri. Questa differenza, che potrebbe sembrare una differenza minore, trascurabile, perché del resto la riga di testo che viene letta è sempre la stessa, giusto? Sbagliato! Questa differenza in realtà è molto impattante. Ci sono delle cose che derivano, delle conseguenze che derivano da questa differente formulazione che possono effettivamente anche stravolgere il tipo di esperienza di lettura o di ascolto che derivi da questi due possibili approcci allo stesso tempo. Vediamo quali possono essere allora queste differenze principali tra un testo in lettura endofasica e un testo con una lettura esofasica. Eccoci qua, dicevo quali sono le differenze? Le differenze sono che quando tu leggi con la mente, è possibile per te focalizzare, sincronizzare il tuo flusso interiore con il flusso interiore del personaggio se il testo naturalmente è scritto in un modo che lo consenta. Se segue i principi della scrittura trasparente, questo fatto è possibile. Come mai? Perché tutta la scrittura trasparente è volta a creare attorno al lettore un'esperienza simulata di vita, istante per istante, che gli permetta proprio di illudersi di essere lui il personaggio che sta vivendo quei fatti, ricreando la complessità multisensoriale degli stimoli provenienti dall'esterno del personaggio stesso, ciò che il personaggio vede, sente, odora, gusta e tocca, eccetera, ma anche attraverso il flusso interiore. E voi sapete bene, se avete seguito le live di Lane Editing di Rotte Narrative, quanto elevata sia l'importanza del flusso interiore di un testo ai fini di immergere il lettore nella scena che viene descritta. È un'importanza fondamentale ed è la cosa che normalmente non capiscono quelli che cianciano di show don't tell senza sapere di cosa stiano parlando. Tralasciano una fetta enorme e importantissima della questione e poi dicono che lo show don't tell non funziona. Bellissimo, bellissimo. Però appunto qual è la differenza e in che modo questo tipo di costruzione della storia, dello stile narrativo, è ottimizzato per la lettura endofasica, quella fatta silenziosamente e basandoci sulla lettura visiva della linearità testuale. Il punto è che molto si regge... Voglio farvela breve perché non voglio dirvi tutto, non voglio lanciarvi addosso troppe robe, questa ce la teniamo per chi voglia approfondire queste tematiche che sono molto affascinanti, però ce la teniamo per un'altra volta. Il punto è che ciascuno di voi, anche tu che stai ascoltando, nella tua mente hai una vocina, giusto? La vocina del cervello, la chiamano i più studiati, la vocina del cervello che voce ha? Esatto, ha la tua voce. E la vocina del cervello è una tua compagna costante, la sperimenti ogni giorno della tua vita, quando vedi qualcosa attorno a te che rielabori fra te e te è con la vocina del cervello che stai parlando a te stesso, è una parte della tua coscienza, se vogliamo, per usare termini generici, che parla a te stessa, a te stesso, a un'altra parte che la percepisce e in una sorta di monologo interiore, quello che in prosa io chiamo il fraseggio interiore dei personaggi. La stessa cosa, la buona narrativa la mette in scena, la trascina sulla pagina, e anche la narrativa, diciamo, classica, standard degli anni 70, 80, 90, fa spesso qualcosa del genere, mette in scena i personaggi in forma diretta, scusami, i pensieri diretti del personaggio come se fossero dei brani di dialogo, di solito mettendoli in corsivo oppure segnalandoli con delle virgolette alte in contraposizione ai trattini dialogici oppure le virgolette caporali del dialogo, insomma, viene chiaramente distinto con una qualche, con un qualche marker visivo, grafico, che non è un brano pronunciato ad alta voce ma è un brano formulato interiormente e quel brano lì però viene direttamente riportato. Benissimo, quel brano di pensiero, di pensato, è una cosa molto potente per chi lo, per chi legge, perché come una battuta di dialogo trascina il lettore nella presenza fisica della scena, allo stesso modo il flusso interiore che è composto sia dal fraseggio, che è la parte cardinale, ma anche dalle impressioni, le reazioni emotive, le scariche di adrenalina, i brividi, eccetera, eccetera, c'è tutto ciò che afferisce alla sfera dell'emotività e delle sensazioni interiori, l'insieme di questi argomenti costituisce invece l'agganciamento alla scena sotto il profilo dell'interiorità e perciò come i dialoghi, che sono una cosa molto buona e lo avete sentito da tutti gli insegnanti di scrittura, che è un minimo, cioè anche quelli che non ne capiscono quasi niente, è una buona idea farlo, perché? Perché crea vicinanza, perché porta il lettore fisicamente in scena, allo stesso modo, questo lo dicono molti meno insegnanti, proprio perché non ne capiscono altrettanto, allo stesso modo il pensato diretto, il fraseggio interiore, è un uso accorto e accurato delle sensazioni, trascina il lettore non nella fisicità della scena, ma nell'interiorità del personaggio, ed ecco quindi che questa è la duplice chiave che crea una scena molto immersiva, che crea una scena che trasporti il lettore all'interno non solo di un luogo, in cui in realtà non è, ma anche in una personalità, in una persona, in un essere umano, che in realtà non è. E di questo essere umano, così facendo, può cogliere una serie di tratti, di spiegazioni, di motivazioni delle sue geste, delle sue azioni, che magari, standogli all'esterno, non riuscirebbe ad accettare con altrettanta chiarezza, perché non ne vivrebbe con altrettanta chiarezza sulla propria pelle i pensieri e le motivazioni. Questo è uno delle chiavi più potenti della scrittura trasparente, ed è uno dei motivi, però anche, per cui è così strettamente connessa alla scrittura endofasica. Perché c'è bisogno che quella interiorità, a differenza di quella della voce dei personaggi, che uno se la può immaginare come gli pare, ma tanto nella sua vita di tutti i giorni è abituato a sentire voci diverse attribuite a persone diverse, invece la voce interiore è abituato a sentirne una sola, la propria. Ecco quindi che quando all'interno di un testo scritto, come vi insegniamo, come vi insegniamo noi, come vi raccomandiamo noi, quindi con la scrittura trasparente, quando in un testo voi leggete una battuta di, cioè un fraseggio interiore, e nella vostra lettura mentale, quel fraseggio interiore ha la vostra voce, quella cosa vi risulta molto credibile. Se invece quel fraseggio interiore avesse una voce diversa dalla vostra, ecco, in quella circostanza cambierebbe un po', anzi cambierebbe più di un po', cambierebbe parecchio. Noi non siamo abituati a vivere l'interiorità attraverso la voce, una voce che non sia la nostra, una voce interiore che non sia la nostra, ed è il motivo per cui tanti lettori che sono abituati e affezionati al medium della prosa scritta, faticano a sintonizzarsi con gli audiolibri. Uno dei motivi è proprio questo, non è l'unico, ma è uno dei principali, e cioè che non ci riescono a sorvolare sul fatto che quella voce che gli racconta l'interiorità di un personaggio con cui la storia vorrebbe che loro empatizzassero, quella voce si mette di mezzo, quella voce non è la loro e il fatto che non sia la loro in qualche modo riduce quella vicinanza. In qualche modo la presenza della voce si frappone tra il lettore e il personaggio portatore di punto di vista. Ecco quindi che storie ottimizzate al 100% per dare la massima immersione possibile per una lettura endofasica si rivelano in realtà subottimali quando la si sposti a una lettura esofasica. E le letture esofasiche invece, allora, visto che esistono delle specificità tecniche anche molto precise, queste di cui vi sto accennando, che rendono superiore in termini di resa la scrittura trasparente per una lettura endofasica. Quali sono le tecniche che invece rendono superiore la scrittura, cioè un certo approccio narrativo per la scrittura esofasica? Quali sono quindi le tecniche che rendono più apprezzabili e godibili, proprio stilisticamente parlando, al di là di chi sia l'attore che dà la voce a un testo che venga poi letto e trasformato in audiolibro? A questo proposito ne parleremo in modo più approfondito nel grande webinar che stiamo per lanciare alla fine di questo mese. Vi lascio tutti i dettagli qua sotto in descrizione, se non lo avete ancora fatto iscrivetevi perché sarà veramente interessante e soprattutto sarà qualcosa che non è mai stato affrontato con questa chiarezza di visione, con una terminologia anche un pochino più specifica, un pochino più consapevole e soprattutto affrontando tematiche di ordine narratologico. Tutti quelli che parlano di audiolibri di solito ne parlano in termini di interpretazione, in termini di attori. Certo la voce fa molta differenza, scegliere una voce giusta rispetto a una voce sbagliata può fare una differenza enorme in termini di quanto bene uscirà il libro, l'audiolibro chiaramente. Ed è verissimo, non sto dicendo di no, il punto è che non c'è solo quello. Il punto è che ci sono anche delle questioni stilistiche, perché se voi volete fare gli scrittori e un domani puntate a costruirvi un vostro ecosistema di lettori che vi seguono e che magari vi incontrano da più canali diversi, da più fonti diverse, avrete i vostri lettori che vi cercano sugli scaffali in libreria o magari non ne avrete nessuno, oppure avrete i vostri lettori che vi cercano sui cataloghi degli ebook su Amazon o magari non ne avrete nessuno su Amazon. O magari avrete invece dei lettori che vi cercano su Storytel o su Audible o ovunque vogliate o su Spotify o ovunque. E benissimo, magari sono soltanto lì o magari non sono lì o più probabilmente saranno sparpagliati in ciascuno di questi luoghi. E ciascuno di questi sarà una fonte di ingresso per le persone che potranno trovarvi, che le persone avranno per cercarvi e trovarvi con i vostri testi. Benissimo, però dovete sapere una cosa, che se volete presidiare le librerie fisiche e le librerie degli store digitali degli ebook, lo stesso testo, cioè vi basterà un testo soltanto. Basta che ottimizzate quel testo per la lettura endofasica e quel testo andrà ugualmente bene in versione cartacea o in versione ebook. Dovete però anche sapere che quello stesso testo non andrà altrettanto bene per la versione in audiolibro. Sono questioni che dovete capire. Chi voglia scrivere per il piacere di farlo, per compiacere se stesso, per svago, tutte cose che vanno benissimo, non ha bisogno di farsi tutte queste domande. Queste sono le domande dei pro degli scrittori che invece puntino a avere una padronanza di livello professionale su quel che fanno in modo da poter orchestrare al meglio la propria produzione e sapere in anticipo quali strumenti e quali tecniche siano più efficaci per raggiungere meglio le varie categorie di pubblico. Non solo, anche le diverse piattaforme di approccio in cui il pubblico si raduna. Le esperienze di lettura che gli audiolettori si aspettano non sono le stesse esperienze di lettura che i lettori di ebook o cartaceo si aspettano. Non lo sono, sono diverse. Ci sono delle differenze, differenze che vedremo nel webinar che faremo proprio a fine settembre. Tutte le informazioni per iscrivervi a questo webinar ve le lascio in descrizione, una ve la dico subito e che sarà sarà gratuito, completamente gratuito. Ci sarà una bella lunga fase introduttiva di contenuti in cui vi spiegheremo questi argomenti, vi darò una serie di indicazioni su il fenomeno della lettura sulla voce, un sacco di cose interessantissime. Dopodiché vi parlerò anche di scrivere per la voce, un nuovo percorso che abbiamo predisposto per approfondire questo tema e sviscerarlo in modo da renderlo fruibile per chiunque voglia fare della scrittura un proprio percorso di carriera. Perché non basta quattro chiacchiere fatte così in modo informale, come vi sto dicendo, sto appena scalfendo la superficie. Veramente ci sono moltissime cose da dire a questo proposito, cose che non sono ancora mai state dette da nessuno. Io mi sono fatto negli ultimi mesi una full immersion e ho consultato professionisti del settore a valanghe proprio per raccogliere tutte le informazioni necessarie per portarvi un pacchetto di competenze, di comprensione, conchiuso e internamente congruente. Apposta perché voi possiate imparare anche se non ne capite niente, non ci avete mai riflettuto e magari non avete mai ascoltato un audiolibro in vita vostra, così che possiate anche capire con quali ritocchi, quali mosse, possiate ottimizzare magari il vostro libro per farlo diventare anche un audiolibro. Perciò vi do appuntamento al grande webinar di fine settembre, iscrivetevi a quel webinar, vi lascio qua sotto in descrizione anche il link dove potete iscrivervi, è gratuito, basta iscriversi appunto, e noi ci vediamo ai prossimi video qui sul canale di Rottenarrative. Ciao ciao!